5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff! Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova pillola del Cosmo. In questa pillola risponderemo alla seguente domanda. Che cosa possono avere in comune il gioco di carte per bambini doble e le geometrie non euclidee? Iniziamo con un po' di storia. Doble è la versione italiana del 2012 di un gioco di carte ideato nel 2009 con il nome di Spotit. Gli ideatori di Spotit sono francesi, Denis Blanchot e Guillaume Gilles Navé. La grafica del gioco è stata curata da Igor Pouloshin. Come purtroppo però accade spesso in questo mondo, sembra proprio che l'idea originale non sia stata loro, ma di un certo Reynard Stopp. Questo simpatico signore tedesco aveva inventato nel 1995 un gioco analogo denominato Catch the Match e si arrabbiò molto quando uscì Doble. Gli editori di Doble, Asmodee e Play Factory non hanno mai riconosciuto il lavoro di Reynard, che in questa lettera aperta mostra tutto il suo risentimento. Ma adesso è venuto il momento di mettere da parte i contenziosi tra i creativi. Passiamo a descrivere Doble. Doble è un gioco nel quale contano molto il colpo d'occhio e la velocità nel contare i simboli. Si compone di 55 carte di forma rotonda racchiusa in una pratica confezione di metallo. Su ogni carta sono disegnati 8 simboli diversi. Ogni simbolo è di un colore particolare. La caratteristica notevole è che prendendo due qualunque carte a caso nel mazzo, queste avranno uno ed un solo simbolo in comune, stessa forma e stesso colore, solamente la dimensione può essere un po' diversa. Questa peculiarità mi ha incuriosito molto. Quali regole matematiche sono necessarie per costruire un tale gioco? Innanzitutto diciamo che due carte prese a caso hanno una e un solo simbolo in comune ed evidentemente se durante il gioco la carta mia o quella del mio avversario non avesse nessun simbolo in comune, io per esempio sarei molto svantaggiato oppure se un giocatore si dovesse trovare ad avere non una ma due simboli in comune per lui sarebbe molto più facile individuare un simbolo. Anche questa sarebbe una grossa ingiustizia. Alle scuole superiori ci hanno insegnato che per due punti passa una e una sola retta. Sarà questa la caratteristica utilizzata dai creatori di doble? Vedremo che è proprio così, ma scopriremo anche che il cammino verso tutte le sfaccettature matematiche nascoste in un gioco che fa divertire anche i bambini di quattro anni ci porteranno molto più lontano. A scuola studiamo una geometria che è denominata geometria euclidea. Quindi a scuola immaginiamo di avere una superficie piana e partendo da cinque assiomi, proprietà di buonsenso vere per ipotesi e dunque non dimostrabili, si indagano le proprietà dirette, segmenti e figure geometriche che giacciono su tale piano. Nella stesura degli elementi, l'opera di formidabile razionalizzazione della matematica ellenistica, euclide enuncia cinque postulati. Primo postulato, tra due punti qualsiasi è possibile tracciare una ed una sola retta. Secondo postulato, si può prolungare una retta oltre i due punti indefinitamente. Terzo postulato, dato un punto e una lunghezza, è possibile descrivere un cerchio. Quarto postulato, tutti gli angoli retti sono uguali. E quinto postulato, se una retta taglia altre due rette determinando dallo stesso lato angoli interni la cui somma è minore di due angoli retti, prolungando indefinitamente le due rette, esse si incontreranno dalla parte dove la somma dei due angoli è minore di due angoli retti. Il quinto postulato, magari sembra un po' difficile, però con questa immagine potrete sicuramente capire meglio. Ok, ma tutto questo cosa c'entra con doble? Seguitemi e ci arriveremo. Vedremo che ogni simbolo presente in ogni carta rappresenta una retta. Le carte possono essere immaginate come i punti in cui passa una certa retta. Invece di dire che una carta contiene un simbolo, potremmo dunque affermare che il punto rappresentato dalla carta appartiene alla retta rappresentata dal simbolo. In questa figura mostro l'equivalenza tra le due affermazioni. La retta è rappresentata dal simbolo del senso vietato, in questo caso, e i punti sono intesi come i luoghi dove si incrociano le rette. Vi potrà sembrare un paragone tirato per i capelli, ma abbiate pazienza e ci porterà lontano. Il passo successivo è quello di verificare che i punti sul piano euclideo possono essere identificati da numeri e che le rette possono essere identificate da semplici equazioni di primo grado. Per farlo basta disegnare sul piano due rette perpendicolari orientate, una orizzontale e l'altra verticale. La retta orizzontale la chiamiamo scissa e quella verticale la chiamiamo ordinata. Il punto dove si incontrano lo chiamiamo origine e su ciascuna di esse fissiamo un'unità di misura. Il punto viene identificato da una coppia di numeri. Nel caso del punto verde i numeri sono 2, 3. Le rette vengono identificate da equazioni di primo grado, ad esempio y uguale a per x più b, dove a e b sono numeri. Quindi, riassumendo, i punti sono definiti da coppie di numeri e le rette da equazioni che fanno uso solo di addizioni e di moltiplicazioni. Quindi, per creare le carte di doble ci basta trovare un sistema di numeri che ci permetta di fare addizioni e moltiplicazioni, aggiungendo però la caratteristica che sia finito, ovvero composto da un numero finito di punti. In questo modo potremo stampare sulle nostre carte punto i nostri simboli retta ed avremo ottenuto il gioco di doble. Per capire come hanno costruito doble, partiamo da una versione molto ridotta, con meno elementi. Iniziamo dal sistema più semplice possibile, quello nel quale gli unici valori siano 0 e 1. Definiamo quindi le operazioni di somma. 0 più 0 uguale 0, 0 più 1 uguale 1, 1 più 0 uguale 1, 1 più 1 uguale 0, perché gli unici valori ammessi sono 0 e 1. Poi definiamo le operazioni di prodotto. 0 per 0 uguale 0, 0 per 1 uguale 0, 1 per 0 uguale 0 e 1 per 1 uguale 1. Si ottiene quindi questa tabella. In questo piano finito, discreto e ancora per poco euclideo, esistono dunque solamente 4 punti e solamente 6 rette. I punti sono 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Le rette sono la retta verticale x uguale 0, composto dai punti 0, 0 e 0, 1. La retta verticale x uguale 1, composto dai punti 1, 0 e 1, 1. La retta orizzontale y uguale 0, composto dai punti 0, 0 e 1, 0. La retta orizzontale y uguale 1, composto dai punti 0, 1 e 1, 1. La retta obliqua y uguale x, composto dai punti 0, 0 e 1, 1. E la retta obliqua y uguale x più 1, composto dai punti 0, 1 e 1, 0. Quindi, se associo ad ogni retta un simbolo, ad esempio, per la retta y uguale 0, associo la goccia, y uguale 1, il quadrifoglio, x uguale 0, le picche, x uguale 1, il sole, y uguale x, la margherita, y uguale x più 1, il cuore, posso quindi creare un gioco di doble con 4 carte punto e 6 simboli retta, come esposto in figura. Ogni punto appartiene a 3 diverse rette, quindi su ogni carta sono stampati 3 simboli. Potete verificare voi stessi che prese due qualunque delle 4 carte, queste hanno uno e un solo simbolo in comune, che è l'equivalente del postulato euclideo, che stabilisce che per due punti passa una e una sola retta. Una nota importante, la retta cuore e la retta margherita non si intersecano. Ricordiamoci che abbiamo costruito un sistema discreto e dato che nessun punto appartiene a entrambe le rette, queste non si incontrano. Il fatto che si incontrino nel disegno è solo un'illusione. Le rette identificate dalla margherita e dal cuore sono in questo sistema di riferimento parallele. È venuto adesso il momento di dire ciao alla geometria euclidea rompendo il quinto postulato di euclide. Per essere più precisi, spezzeremo una versione più restrittiva del quinto postulato, detto assioma di Playfair. Tale assioma, nella tradizione didattica moderna, sostituisce il quinto postulato, anche se le due assunzioni non sono proprio equivalenti. L'assioma di Playfair dice che, data una qualsiasi retta R ed un punto P non appartenente ad essa, è possibile tracciare per P una ed una sola retta parallela alla retta R data. Nota, quello di Playfair è un assioma più restrittivo, che implica quello di euclide. Quindi, se è vero quello di Playfair, allora è vero il quinto postulato di euclide. Ma non è implicato. Esistono teorie geometriche nelle quali il postulato di euclide è vero e quello di Playfair è falso. Ma a cosa serve negare il quinto postulato di euclide? Beh, semplice. Serve a ipotizzare che rette parallele in realtà si incontrino all'infinito. D'altronde, chi è mai arrivato a guardare che cosa succede all'infinito? Quindi, ciò premesso, possiamo aggiungere al nostro gioco un altro simbolo retta, quello della retta all'infinito. Tutte le rette tra loro parallele, ovvero con la stessa pendenza, si incontreranno in uno stesso punto appartenente alla retta all'infinito. Quindi, nel nostro sistema di riferimento, la retta all'infinito è composta da tre punti. Abbiamo, dunque, tre ulteriori carte che si aggiungono al nostro doble semplificato per un totale di sette carte. Quindi, in questa nuova immagine, abbiamo il simbolo dell'infinito violetto che comprende tre punti. Anche in questa versione estesa rimane valida la particolarità di doble, ovvero che prese due qualunque delle sette carte, queste hanno una e un solo simbolo in comune. Il primo postulato Euclideo, che recita che per due punti passa una ed una sola retta, non è stato e non verrà messo in discussione. Per chi volesse approfondire, questa particolare costruzione geometrica è nota anche come piano di Fano. Per maggiore chiarezza, possiamo rappresentare le stesse carte numerandole, ad esempio in questo modo. Avremo, dunque, considerato che le carte 5, 6 e 7 sono dei punti all'infinito, la seguente tabella. La lascio in sovrimpressione per qualche secondo, in modo che possiate verificare che la tabella è corretta. Bene, adesso siamo pronti per il grande salto, da un doble baby con sette carte e sette simboli, a quello vero con più di cinquanta carte e più di cinquanta simboli. Il vero doble si costruisce in maniera analoga, usando invece che due sole numeri, 0 e 1, un sistema di sette numeri con tavole di addizione e moltiplicazione del tutto simili. Per semplicità, invece di definire le addizioni e le moltiplicazioni, passerò ad illustrare come costruire le carte, numerando i 49 punti del nostro piano 7x7, aggiungendo poi punti all'infinito ed elencando a quali punto carta appartiene ogni simbolo retta. Quindi, il nostro piano, punti all'infinito esclusi, è dato dai seguenti punti. Lascio anche qui qualche secondo per apprezzare come sono stati numerati i punti. Aggiungiamo poi i punti all'infinito. I punti all'infinito sono il numero 50 per le righe orizzontali, 51 per il salto di 1, 52 per la pendenza con salto di 2, 53 per salto di 3 e così via, fino ad arrivare al 57 che definisce le righe verticali. Le carte saranno dunque così composte. Per le linee orizzontali abbiamo il pagliaccio che entra nelle carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 50, il punto di domanda che entra nelle carte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50 e così via. E in queste tabelle, che vi faccio vedere per qualche secondo, ho l'elenco di ogni simbolo a che retta appartiene e in quali carte naturalmente va a finire. Se questo passaggio non vi è chiaro, vi consiglio di scrivere su un foglio di carta la tabella con tutto l'elenco dei punti presentata prima e di disegnare delle rette e vedere che effettivamente in quella retta lì c'è un simbolo particolare. Bene, ma arriviamo alla parte interessante di questa pillola. Dopo questa tremenda infornata di numeri cominciamo a fare qualche riflessione. La nostra costruzione matematica ha generato un gioco con 57 carte e 57 simboli nel quale ogni simbolo è presente in esattamente 8 carte. Ai matematici piace molto la simmetria. Dobble invece ha solo 55 carte. Il povero pupazzo di neve compare solo 6 volte invece di 8 ed è in compagnia di altri 14 simboli che compaiono solo 7 volte invece di 8. Mi sono divertito sul tappeto di casa mia a disporre tutte le carte di Dobble nella modalità che abbiamo appena visto in modo da evidenziare quali sono le carte mancanti. Una versione ad alta risoluzione di questa foto è presente nel link che potete trovare in descrizione. Nella foto ad alta risoluzione si può leggere anche il numero che ho associato ad ogni carta proprio come nella tabella descritta sopra. Nel gioco di Dobble chi per primo trova il simbolo in comune tra due carte vince. Quindi io quando gioco a Dobble non cerco mai il pupazzo di neve perché appare solo 6 volte invece che 7 o 8 volte di tutti gli altri simboli. In questo modo ho un leggero vantaggio rispetto al mio avversario. Ma perché sono state stampate 55 carte invece di 57? Non lo so, forse 55 sembrava un numero più bello. Se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti. E termino questa pillola con una frase del grande Poincaré Una geometria non può essere più vera di un'altra può solamente essere più comoda. Ora la geometria euclidea è e resterà la più comoda. È proprio vero che non si può fare una classifica di verità tra le geometrie ma sul secondo punto a mio parere Poincaré si sbagliava. La geometria non euclidea ci ha permesso di creare più carte nel gioco di Dobble ma ha anche altre implicazioni meno ludiche ma molto più importanti. E mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao!